Buongiorno cari amico da Paolo, il giorno di oggi che cosa faccio? Faccio un pranzo Fizzy Max, dovi un'idea che pranzo possiamo fare al pranzo, già ho fatto una prima colazione energetica, dolce e ho fatto una salata. Il giorno di oggi propongo un pranzo, un pranzo molto facile da fare, più o meno in 5-8 minuti lo possiamo fare, guarda comando, vedo che c'è la primavera e che sta arrivando già l'estate, lo so che la gente non vuole mangiarsi bene, è meglio che mangiare questo cibo che sono sano, guarda, il giorno di oggi abbiamo il polo, abbiamo il comodoro, il broccolino, il avocado, la barbabietola, più conosciuta in spagnolo come la remolacha e la insalata. Allora andiamo a preparare questo delicioso piatto Fizzy Max, un pranzo energetico, guarda comando, guarda comando che voglio che le persone stanno sempre forti, forti e con buona energetica per realizzare tutto il lavoro, il compito, tutto quello che tu fai, lo importante è un pranzo equilibrato, che meglio che costa il pranzo. Ok, va a iniziare, va a iniziare il primo cucinando il broccolino che si vuole un po' di tempo, adesso cerco la padella per fare il polo. Dopo che faccio il polo, il polo lo lo condire con qualsiasi cosa, io lo condisco con un po' di essenza e lo aggiungo un po' di limone così, va a fare una buona combinazione con il avocado, grasa, grasa buona, importante per la fertilità del buomo, come la donna, il pomodoro, il barbabietola, tutti questi ingredienti ci sono un po' di essenza che abbiamo bisogno, il nostro corpo, che cosa voglio fare? voglio fare il polo a la grilla, polo la grilla, la padella, dopo faccio una insalata, la questa insalata la voglio aggiungere il pomodoro, le aggiungo il avocado e le aggiungo la una barbabietola, è un plato facile di fare, vieni a provare, vieni a provare, vieni a provare la padella, questa carta ci serve per aggiungere il polo, perché si il olio sta caldo e mettiamo questo così, facciamo un cassini, non va a perdere il cassini, va a aggiungere un pochino di olio, un pochino, solo un pochino, poco olio, poco olio, tutto la padella, facciamo un pochino di olio, 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 la sale, la sale, sale, sale a piacere. Nuestro polo, basta. Nuestro polo, perfetto, basta. Apparato, adesso, quando il polo va, adesso, faccio il contorno, faccio la insalata, mira comando, la insalata, con la barbabietola, con il pomodoro, anche con la butata, e il broccolino, perfetto il broccolino pronto, che non manche in vostra dieta il broccolino, perigosa, uno che fa il forte deve stare bene, le usa forte, forte. Ok, perfetto, ora come sta rimanendo il nostro piatto, il broccolino, il polo, il polo appanato, adesso, ora faccio la insalata, la insalata, guarda qua. Perfetto, perfetto, la barbabietola, taglio il pomodoro. Le ricordo, potete aggiungere a la insalata qualsiasi altre cosa che ti piace, a me piace una insalata molto semplice, il pomodoro, le metto la barbabietola, le aggiungo un po' l'aceto, un goccino di olio, di subito, di subito. A questa insalata io le voglio aggiungere il pomodoro, il pomodoro, il pomodoro, così, e il piatto un saporetto, e il piatto un delicioso, il paio italiano. Propongo la barbabietola, possiamo mettere in pesetto, piccolo, lungo, corto, come voi. Mi piace la barbabietola, perché tiene sale, minerali, vitamina, calcio, potasio, ferro, tutto, 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 tutto. Le aggiungo a avere tumori vasculares, ayuda, ayuda tutto, ayuda, ayuda la barbabietola. Organismo con un buon pranzo. Ok, perfetto. Vediamo come sta rimanendo, è buono. Insalata, barbabietola, pomodoro. Io ho avuto, le aggiungo un po' di, le aggiungo un po' di, le aggiungo un po' di, origano, 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 un po' di, a piacere. A piacere, ok, perfetto. Olio, 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 perfetto. Una insalata rica, energica, come ti piace, come ti piace. Come potete guardare, questa insalata rica fisimaz, insalata polo e brocoli. Questi apportano grandi nutrienti al nostro corpo. Comando, non dovete mai anche saltare il pranzo così. Lo importante, al giorno dobbiamo mangiare racionatamente. Podiamo mangiare la prima colazione, il pranzo, dopo pranzo un spuntino. E per ultimo, la cena, la cena. No voglio nessuno che diventa così un po' o che non forza niente per la mancanza di tempo per fare il pranzo. Questo pranzo dura 7 minuti, dura in casa. Questo è il tavolo guarda. Questo è il tavolo, potete vedere il nostro piatto guarda. Molto facile guarda. Brocoli, polo, non lo faccio alla padella o alla grilla. La insalata, la condita con un po' di olio e origano. Le ho messo, che mai le ho messo? Le ho messo l'aceto e un po' di olio e sale a piacere. Al polo, le ho messo un po' di limone e un po' di origano. A questo brocoli le potete aggiungere un po' di olio come voi. Io lo faccio così tanto. Oh, che cosa mi manca. Un po' di sale. Ok, adesso un po' di acqua. Agua, agua, agua. Agua. E le potete aggiungere un po' di galletta. Galletta guarda. Sono galletta integrale. Carbohidrato guarda. Una o due. Te fa bene e complementa con. Tu alimentazione. Se tu non sei comportato bene. Te sei allenato. Hai fatto ejercicio aerobico. E te sei allenato con Pablo. Puoi avere una copita di vino va bene. Per il giorno di oggi abbiamo finalizzato. Grazie per guardare questo pranzo. E questo frissi ma. Se ancora non ti sei inscrito, iscrivete a questo. Io adesso, disfruto il pranzo. Perché al topo di questo, vado in piscina, vado in piscina, vado in piscina. Buon appetito per tutti. Io ti miro bezzato. Mmm. Rico! Saborito!